Ehi Adrian, con il 7 Eric, con l'8 Janer, con il 9 Andrea, con il 10 Mike, con il 14 Jacopo, con il 16 Nicola, con il 19 Bruno, con il 25 Eddie, con il 33 Achille, con il 42 Dario, con il 23 Frank Piducci, assistente di Bicchini e Guglielmo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi vogliamo questa vittoria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.